Oggi ci spostiamo negli Stati Uniti sulla West Coast per questa Pale Ale del birrificio Anchor. Vediamo la scheda di questa birra. Allora, il birrificio in questione è appunto Anchor Brewing. Questa è la Liberty Ale. Lo stile di questa birra è una APA, APA. Grado alcolico 5,9 gradi. Il prezzo, non lo ricordo con esattezza, ma era intorno quasi 4 euro, acquistato a un cash and carry. Il bicchiere suggerito è la pinta o inglese o americana. E si tratta di un primo assaggio. Non si tratta di un primo assaggio per quanto riguarda i prodotti di Anchor Brewing, che conosco bene e credo che sia uno dei migliori birrifici, sicuramente tra i migliori americani, ma forse anche tra i migliori al mondo. Ma la Liberty Ale, tra le varie birre prodotte appunto da Anchor, mi mancava e quindi ho pensato di farci una puntata con questa bottiglia. Per quanto riguarda l'etichetta, allora c'è il tappo che riporta questa ancora appunto di Anchor Brewing con il loro logo. Una tripla etichetta, una molto piccola nella zona superiore, con il logo e ancora con l'Ancora e la scritta della birra, Liberty Ale. La parte inferiore, allora tutte le birre di Anchor hanno questo stile, con questa etichetta ovale è un disegno un po' retro, diciamo così, disegnato a pastello sembrerebbe. In questo caso Liberty Ale c'è l'Ancora, che è il logo di Anchor Brewing, e dietro c'è un'aquila urlatrice, un'aquila testa bianca americana, che è un po' uno dei simboli nell'iconografia americana. E infatti questa birra, il nome Liberty Ale si rifà proprio a, non ricordo più quale battaglia, ma comunque legata alla guerra di indipendenza americana. E sul retro ci sono un po' di informazioni. Come dicevo, il birrificio Anchor è un birrificio americano, West Coast, infatti se non sbaglio è nato a San Francisco, è un birrificio nato tra l'altro alla fine dell'Ottocento, quindi è molto molto vecchio, ha avuto però il boom, superando anche un potenziale fallimento negli anni Ottanta. tra l'Ottanta e il fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta c'è stata questa riesplosione di Anchor Brewing, ed è stato un po' uno dei primi capi fila che ha lanciato il movimento craft, o comunque il movimento indipendente americano. Una piccola precisazione, non è propriamente un birrificio indipendente, perché l'anno scorso ha ancora stato acquistato dal gruppo Sapporo, che è un gruppo giapponese, la birra Sapporo è una delle due grandissime marche di birra che si contengono nel mercato sia giapponese, ma poi dopo acquistando anche altri birrifici hanno praticamente le mani in pasta con tantissimi altri birrifici europei ed americani. Tra l'altro se vi sarà capitato o se vi interessa un po' il mondo dei manga, spesso capita che le birre che bevono i personaggi all'interno dei manga ambientati a giorni nostri perlomeno sono sempre o Sapporo o Asai, quindi sono marchi davvero davvero entrati nella cultura anche pop. Quindi, dicevo, è ancora stato acquistato in parte da Sapporo l'anno scorso, i loro prodotti secondo me restano comunque davvero davvero interessanti. Le loro IPA sono tra le più interessanti sicuramente. Questa è una IPA, quindi una American Pale Ale. La differenza è sottile, ma un po' c'è, tra le IPA India Pale Ale e le IPA American Pale Ale. Per riassumerla proprio molto molto velocemente, diciamo che lo stile storicamente nato prima è quello delle India Pale Ale. La storia è molto famosa, volendo ci sono dei racconti molto dettagliati di come sia nato questo stile. Tra l'altro, in uno degli ultimi numeri di fermento birra c'è proprio tutta una storia cronologica di come sono nato le prime IPA a livello molto molto preciso e dettagliato. Ma in sostanza, in Inghilterra, fino a 800, c'erano le colonie in India, bisognava mandare la birra in India, la birra doveva conservarsi, il lupolo ha una blanda attività battericida, quindi la scoperta, l'idea, cos'è? Più lupolo e più alcol, aumentiamo la probabilità che la birra si faccia tutto questo viaggio in maniera più sicura e non vada male. Da qui, quindi, questo stile di birre più lupolate e anche un po' più alcoliche rispetto allo standard inglese di quegli anni. Lo stile invece delle IPA, quindi le American Pale Ale, è quello che nasce proprio negli anni 80 in America, quando c'è stata questa rivoluzione, appunto, brassicola americana, e quindi fare uno stile che si ispirasse, quindi, alle IPA con birre chiare, alta fermentazione, chiare anche se oggi ci sono IPA che vanno verso l'ambrato, comunque birre chiare, alta fermentazione, con lupoli americani. La grossa differenza, proprio tra i lupoli, diciamo, inglesi e quelli americani, è che se quelli inglesi vanno verso l'erbaccio e il resinoso, quelli americani vanno verso il fruttato e il tropicale. A spanne, più o meno, è questa la differenza. Poi, ovviamente, ogni stile può essere interpretato proprio in modo dal mastro birraio di ciascun birreificio. Ho parlato abbastanza, la birra è già fuori dal frigo di frutta un pochino, direi che si può aprire. Un dettaglio sul bicchiere, perché ne stavo parlando proprio qualche giorno fa, a cosa serve la pancia degli bicchieri a pinta? Non ha alcuna funzione strutturale particolare, semplicemente perché questi bicchieri qui, a pinta, venivano impilati verticalmente e questa pancia rende più facile poi la presa. Un piccolo suggerimento che però mi permetto di dare, non impilate mai i bicchieri, perché se si impilano l'uno con l'altro, non circola più l'aria. Infatti, io solitamente consiglio sempre di mettere i bicchieri su o impilarli a piramide, quindi due sotto e uno e mezzo, in modo tale che possa passare l'aria, ma comunque la striscia più in basso, lasciare un pochino di spazio. Ci sono degli strumenti apposta che lasciano come quello dove sto appoggiando adesso le bottiglie o comunque anche più sottili, che fanno passare l'aria, proprio per evitare che si blocchi, si crei un microclima, soprattutto se è caldo appena uscito dalla lavastoviglie e si crei un microclima interno che non facilita quindi l'asciugatura e la pulizia delle pareti del bicchiere. La birra è molto chiara, non presenta praticamente fondo, verso completamente. La schiuma, in questo caso, è abbondante, direi. Un color bianco, leggermente tendente al crema, con una texture molto regolare. La birra è appunto un color ambrato, quindi, come dicevamo prima, l'utilizzo di malti speciali e porta le APA più moderne ad avere colori un pochino più verso l'ambrato rispetto all'originale color giallo-paglierino-biondo classico dell'origine, praticamente, del movimento APA americano. Però, appunto, lo standard più o meno al momento sembra essere questo. Molto interessante. Me l'aspettavo molto più fruttata. In realtà, ci sono lupoli che vanno tanto verso l'erbaceo e la frutta tropicale, direi. Beh, è davvero una conferma, secondo me, Anchor. È una conferma del modo di lavorare di Anchor. È davvero un'ottima birra. Allora, innanzitutto, quello che mi ha colpito subito è il perfetto equilibrio dolce-amaro, perché c'è una buona dolcezza del malto e poi dopo un finale amaro, anche molto persistente, che continua appunto a persistere anche adesso, della lupolatura. Quindi questo equilibrio è molto buono ed è una cosa non semplicissima da ottenere, ma che i buoni produttori, e i mastri birrai bravi ovviamente sanno ottenere nelle ipa. Quindi non solo birra con un eccesso di lupolo, una spremuta di lupolo esagerata, ma appunto un buon equilibrio dolce del malto-amaro del lupolo. Questa birra, infatti, ha un'apertura piuttosto dolce, appunto molto maltata, che poi lascia spazio all'amaro, giusto come prevede appunto questo stile. Il finale è abbastanza amaro, non è però molto secco, nel senso che non vi asciuga e non asciuga completamente la bocca. Resta però appunto molto, molto persistente, questo amaro che ancora continua a lavorare in bocca. Il corpo è piuttosto leggero, non è eccessivamente frizzante, me l'aspettavo un pochino più frizzante. Niente, devo dire un'ottima birra, lo stile, c'è il modo di lavorare di Anchor, lo conoscevo già ed è una conferma, posso confermarlo. E questa appunto era la Liberty Ale di Anchor. Scal.